Buonasera, sono Giuseppe Garri, l'Exhibition Manager di Sicurezza 2012. Tiriamo le somme di questa edizione che ha segnato il trentennale della nostra manifestazione e diciamo che siamo non soddisfatti ma di più. Abbiamo aumentato i visitatori, abbiamo aumentato gli espositori, abbiamo aumentato i metri quadri venduti e pensiamo che sia incominciato un po' il rilancio dell'economia. È la prima fiera da gennaio qui a Fiera Milano che sta crescendo in tutti i luoghi. La manifestazione è stata molto interessante, le aziende ci hanno creduto fortissimamente e ne ringraziamo. Abbiamo cambiato un po' la comunicazione stravolgendo un po' i crismi generalisti e questo abbiamo anche rischiato, però questo ci ha sicuramente favorito sui numeri finali. Abbiamo fatto il 17% in più di pubblico, il 12% in più dei visitatori stranieri e credo che quest'anno, in un anno che sta finendo con dei numeri precedenti allucinanti, sia l'inizio di un nuovo corso. L'economia si vede che lentamente sta crescendo, sta migliorando e credo che questo sia un segnale molto positivo. Nel 2014 abbiamo intenzione di aprire due nuove selezioni, una sulla safety e una sulla sicurezza stradale, che chiaramente saranno trattate a parte in altri padiglioni, quindi non vogliamo fare confusione, ma crediamo che tutta la filiera possa essere interessata a questo settore. Quindi ringrazio ancora una volta tutti quelli che sono venuti e i nostri scolitori che hanno creduto con noi in questo progetto. Abbiamo incominciato a parlare di cultura, dobbiamo ancora fare tante cose, però l'inizio è positivo, abbiamo fatto la galleria dell'innovazione con nuovi prodotti, permettendogli all'azienda degli speech dove potevano spiegare cos'erano. Abbiamo fatto dei convegni con Umbibanca, con Ivri, la nostra società che fa la sorveglianza, quindi abbiamo incominciato a fare cultura, siamo riusciti a fare un convegno inaugurale agli Stati Generali con tutta l'associazione di settore, la prima volta che si presentano unitariamente. Quindi stiamo dimostrando che l'Italia, se siamo tutti inuti, diventerà sicuramente forte. Noi siamo un po' stufi di vedere la Germania, di sentire la Germania, bravissimi. Anche noi siamo bravissimi, basta restiamo uniti. Questa è stata la dimostrazione di questo. Abbiamo avuto rapporti di co-marketing con tutte e cinque le testate di settori che notoriamente sono concorrenti. Siamo riusciti a stare tutti insieme, a comunicare tutti insieme e questi sono i risultati.